Ciao a tutti! Torniamo in Italia per vedere la prima maglia dell'Atalanta per la stagione 22-23 in edizione FAN, la maglia ideata per i tifosi. La prima maglia Atalanta 22-23 mostra più che mai i segni distintivi del club. Il design a righe blu e nere, la stampa con il motto, la maglia sudata sempre e sotto il colletto la scritta Atalanta Bergamo. Per sottolineare il legame tra il club e la sua città. La maglia home Joma Atalanta 2022-23 non è un allontanamento radicale dalle maglie precedenti, presenta un semplice design a righe blu e nere. Uno spesso scollo a V e polsini abbinati sono i cambiamenti più notevoli rispetto alla maglia da casa dell'anno scorso. Joma posiziona il proprio logo sulla destra del petto e lo stemma dell'Atalanta al centro, dove è stato presente su 16 delle ultime 18 maglie casalinghe. Cosa ne pensate? È una bellissima maglia. Nella mia classifica prende tre stelle con tutte le rifiniture giuste, colori brillanti, cuciture che non danno fastidio. È stata una bella sorpresa. Qui in altro vedete il costo che per questa maglia e con dei tempi di spedizione così veloci è stato veramente un affare. In descrizione qua sotto trovate tutti i riferimenti per comprare la maglia e soprattutto potete trovare anche un link per un coupon da 3 dollari che potete poi spendere sul sito per comprare quello che volete. Ora vi lascio la parte finale in cui vedrete la vestibilità, quindi continuate a guardare il video. Nel frattempo spero che possiate regalarci un like e iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione FAN. Grazie a tutti!